Ciao a tutti, eccomi qui dall'interno del mio camper per questo video velocissimo per fare un resoconto della prima settimana di vacanze di prova nel nostro camper Allora, non è tanto facile come a dirsi con tutta la famiglia al completo è un bambino di 9 anni, un cucciolo di 4 mesi, di cagnolino è uno spazio ristretto che logicamente non è casa ma è un camper e quindi diventa un po' tutto se già a casa siamo sull'orlo di una crisi di nervi qua in un camper i nervi sono messi a dura prova però vabbè, dai, alla fine non ci si può lamentare come prima esperienza sta andando abbastanza bene tra alti e bassi, tra urla e risate adesso i miei uomini sono in piscina si stanno godendo questa parte del nostro viaggio siamo arrivati a Sarzana in un campeggio e siccome mio figlio adora la piscina adesso sono andati a farsi un tuffo, a rinfrescarsi in piscina di qui a breve poi vi farò un breve tour del nostro primo viaggio in camper e niente, dicendovi i pro e i contro dei vari campeggi oppure aree di sosta dove ci siamo fermati insomma domani riprenderemo il nostro viaggio e ci dirigeremo verso Forte dei Marmi e come ultima tappa a Rosignano Solvei le spiagge bianche dove oltretutto abbiamo fatto il primo viaggio io e mio marito e allora io chiuderei qui per darvi un veloce saluto e forza e coraggio mamme soprattutto nervi fortissimi e si supera tutto dopo i primi giorni dopo un po' l'assestamento insomma non l'assestamento insomma ci si assesta mi avete capito ok grazie buone vacanze a tutti e ci risentiamo più avanti ciao ciao